Davide di qua, ciao! Grazie Fiore! Bravo Davide! Adesso scusate ragazzi, gli autori mi hanno proibito di farlo ma io non posso, non resisto! È più forte di me! Adesso fatemi vedere che cosa mi fate tutti gli autori qua intorno Mitico! Derby Blue! Eccolo qua, lo bevi al bar lo scegli in 18 diversi gusti come ad esempio questo che è ananas limone e soprattutto Derby Blue lo bevi direttamente dalla bottiglietta ecco perché la sua formidabile bottiglietta in vetro blu e l'attrazione blu dell'estate lo stanno bene al bar del Blue Club dove ci aspetta la nostra inviata Vanessa Incontrada per le ultime novità in blu dell'estate vai Vanessa! Un grossissimo ciao dal bar del Blue Club questa sera amici del Festival Bar vi invitiamo a una sfilata di alta moda realizzata con materiali veramente imprevedibili l'ultima tendenza dell'estate e tutto questo lo dobbiamo ai ragazzi dell'Istituto Europeo di Design e la rappresentante oggi è con noi Barbara Quintana come stas? Muy bien Muy bien tu che materiali utilizzi per i tuoi vestiti? Io ho preso il concetto del ricamo con oggetti di plastica perché? perché mi sembravano oggetti che ripresentano molto la nostra società la nostra cultura siamo abituati a dare al fast food così di questo viene e ho detto questo è lo che voglio Alessia sei pronta perché noi dal bar del Blue Club siamo pronti a farti rimanere con la bocca aperta e dal Festival Bar siete pronti? siamo prontissimi Vanessa fatevi sentire ma voi ragazze è mai capitato di improvvisare un abito all'ultimo momento? state a vedere che cosa riescono a fare i nostri amici del Blue Club e allora un brindisi alla moda speciale con lo specialissimo Derby Blue i buonissimi succhi di frutta vestiti in blu e adesso ragazzi è arrivato il momento di vedere la sfilata e adesso ragazzi è arrivato il momento di vedere la sfilata allora ragazzi avete visto come è bello questo vestito dedicato a Derby cominciamo dal collarino fatto con le etichette poi tutti i tappi del vestito e poi una gonna che sembra fatta di vetro con tutte le etichette anche di Derby tutti i gusti e i sapori è veramente bello congratulazioni Barbara allora ragazzi avete visto quante cose si possono fare creare con un pizzico di fantasia dal Derby Blue Club è tutto ci vediamo la prossima settimana per un'altra indagine in blu a te la linea Alessia grazie Vanessa hai proprio ragione con un pizzico di fantasia un tocco di blu tutto fila più liscio liscio come Derby Blue il succo di frutta bello bellissimo fuori nella sua fantastica bottiglietta tutta in vetro blu è buono buonissimo dentro per la qualità naturalmente garantisce Derby e poi da etto oggi naturalmente Derby anche in versione maxi nella pratica bottiglia da un litro eccola qua e allora ragazzi tutti insieme Derby a tutta frutta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti